Il derby è della vastese, 2-0 al Chieti, al comunale di Ortona, ma senza il tifo organizzato al seguito che non ha ritenuto congrui, pochi tagliandi a loro riservati. Incontro speciale per Pino Di Meo contro il suo passato da calciatore e da tecnico. Sul fronte opposto Marco Amelia schiera tutti gli ex di Filippo in difesa. Vittorio Esposito e Mateus Ribeiro Dos Santos in avanti nel 3-5-2 disposto dall'allenatore di Frascati. Propositivo in apertura il Chieti. Il primo a fondo si perde oltre la traversa sul colpo di testa di Michael Traini sistemato in avanti al fianco di Andrea Sivilla. 4-4-2 per i neroverdi esordio dal primo minuto con la nuova maglia per il guineano Ibrahim Kamara largo a sinistra per Vittorio Favo a centrocampo. Deviazione sul tentativo operato da Filippo Bardini. Palla in angolo, sempre lui stavolta direttamente da calcio franco. Tutti si aspettano un cross dentro il classe 2000. Sceglie la soluzione personale traversa piena e questa la chance migliore. Prima dell'intervallo Michael Traini prova a districarsi in area di rigore al crepuscolo del primo tempo nella ripresa. Con le immagini di Alberto Capo il calcio di punizione in favore della Vastese. La distanza è alquanto ragguardevole e parrebbe senza grosse pretese Federico Pizzutelli. Il pasticcio però è tutto di Stefano Bruno che non trattiene e consegna di fatto il vantaggio al club adriatico. Proprio sotto gli occhi di un certo Marco Amelia ed è 0-1. Il Chieti reagisce, cresce Camara dentro per Traini, chiude tutto Cacciotti che smorza e salva la Vastese che con Dos Santos prova a beffare Bruno con un pallonetto dopo un'incursione centrale che spettina la difesa nero-verde. Si accennava di Ibrahim Camara, meglio nel secondo tempo, ancora pericolo per la retroguardia Vastese. Decisamente più intensa ora la partita, opportunità per il pareggio esiziale, qui l'errore di Bagigalupo 1-1 sfiorato e 0-2 servito. Cosmo Palumbo entrato nella ripresa in luogo di Dos Santos vince il duello con Brugaletta punta Bruno e realizza il raddoppio. Lucchetto al match inserito, partita chiusa ineluttabilmente la Vastese, stacca l'Olimpio Agnonese, scavalca il Pineto e si riporta al ridosso dei play-off ad Ortona. Chieti 0-2, Vastese 2. Dobbiamo partire ovviamente dal gol dell'1-0 della Vastese, un grave infortunio. Un grave infortunio dove ci ha tagliato un po' le gambe, tra virgolette, perché prendere un gol così ti taglia le gambe. Poi la squadra va in salita perché poi ha fatto fatica una squadra organizzata come la loro, poi ci ha messo in difficoltà. Non ce lo meritavamo, a dire la vita, non lo meritavamo. E dire che i primi 20 minuti eravate partiti molto molto bene, dobbiamo dire. No, abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista del gioco. Cioè si è tagliato le gambe questo grosso infortunio e poi si è concluso con la ciliegina sulla torta e con l'altro infortunio di Brugaletta. Si dovrà intervenire sul mercato e in quali ruoli a questo punto? I ruoli stiamo a posto. Dietro, sappiamo, dobbiamo cercare il portiere. Gli Ander sono bravi. Gli Ander che ci abbiamo preso sono tutti bravi, sono tutti bravi. Sono tutti anche il ragazzo Camara che è venuto, ha sordito bene, anche i ragazzi che sono entrati, tutti bene hanno fatto. Il problema è che ho a prendere un gol così balordo, bruttissimo, perché è un gol brutto da prendere, proprio brutto. Amelia, partita sbloccata da un episodio, ma nel contesto di una partita comunque molto buona da parte vostra, tranne i primi 20 minuti dove il Chieti si era fatto un po' preferire. Sì, sì, noi dovevamo mantenere aggressività all'inizio, siamo riusciti meno, ma anche per cercare di capire al meglio come loro volevano giocare. Appena abbiamo capito il loro gioco ci siamo messi subito in fase difensiva giusta per poter poi sfruttare le qualità dei giocatori nel palleggio di transizione. L'abbiamo fatto bene, quindi alla fine io credo che nell'equilibrio della gara nel primo tempo potevamo anche già sbloccare il risultato. Siamo più consapevoli delle forze che abbiamo, delle qualità che possiamo mettere in campo e di gara in gara la strategia viene applicata al meglio come oggi dove credo che tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta.